una preparazione molto veloce da fare ma sempre di grande effetto è il flan fatto con la fontina ovvero mettiamo tutti gli ingredienti insieme in un frullatore e andiamo a mixare tutto quanto insieme meglio se lo facciamo riposare poi una notte in frigorifero prima di andarla a cuocere perché così tutti gli ingredienti si andranno a reidratare meglio però se abbiamo fretta possiamo frullare tutto quanto insieme versare all'interno degli stampi o monoporzione o uno stampo più grande e cuocere a bagnomaria in forno cuocerà per circa 40 minuti dipende un po' dalla forza del vostro forno subito dopo possiamo servirlo con delle composte o con della frutta fresca o con delle verdure per andare un po' a riprescare il nostro flan un po' a riprescare il nostro flan